Il voto delle comunali ha portato alle conferme delle previsioni che davano come probabile il ballottaggio sia a San Giovanni Valdarno che a Figline Incisa. Nella città di Masaccio Francesco Carbini è un abitué del ballottaggio essendo il suo secondo consecutivo in cinque anni. Nella sede elettorale ieri le liste collegate e lo stesso Carbini hanno festeggiato al raggiungimento dell'obiettivo e Carbini stesso ha rilanciato per una rimonta su Vadi che sembra difficile ma non impossibile. Un appello al 9 giugno affinché tutti si rechino alle urne, rinuncino a un giorno di mare se fosse bel tempo perché è l'occasione davvero di voltare pagina ora o mai più. Valentina Vadi infatti con oltre il 45% e circa 17% di scarto su Carbini ha vissuto insieme ai suoi della lista il risultato con pacatezza e senza festeggiare concentrata già all'impegno del 9 giugno. E' che questo progetto politico è nato come una scommessa, si è ingrandito sempre più, la partecipazione la vedete, la si può toccare con mano, noi rimaniamo sempre con i piedi ben piantati a terra, pancia a terra, lavoreremo con umiltà, non stappiamo nessuno spumante, aspettiamo fra 15 giorni quando ci sarà l'esito del ballottaggio. A Figline incisa il centrodestra dopo un testa a testa con Raspini delle liste civiche ha trovato il ballottaggio con Silvio Pittori. Qui lo scarto del 9% da Giulia Mugnai che ha vinto il primo turno lascia la partita un po' più aperta con alleanze che potrebbero spostare la bilancia a favore dell'avvocato. Ieri sera è arrivato alla sede elettorale anche il terzo classificato Raspini a complimentarsi con Pittori. Sicuramente faremo quello che abbiamo sempre fatto, cioè un costante e continuo contatto con le persone per capire quelle sono le loro esigenze, un confronto costante e continuo e lavoreremo per approfondire ancora di più alcuni temi ritenuti fin dall'inizio essenziale all'interno del nostro programma. E la vincitrice del primo turno appunto di questa elezione è a Figline incisa Giulia Mugnai, sindaco uscente con oltre il 32%, parte favorita ma anche lei dovrà cercare voti in altri schieramenti rimasti fuori dalle elezioni. Ci sembra naturale l'accordo con Tosin ma probabilmente non basterà. Intanto queste le sue parole al termine dei risultati ieri. Certamente sì, andremo in ogni singolo pezzetto del territorio a raccontare la nostra idea di paese, sicuramente non è quella ci ha raccontato Salvini ormai due settimane fa nella piazza Serri Stori dicendoci che siamo praticamente equiparabili dalla periferia malfamata di non so quale città d'Italia. Sicuramente a quello sapremo dare una risposta perché il nostro comune è un luogo in cui ancora le persone escono di casa, si aggregano e non hanno paura di vivere il proprio paese e riaffermeremo questi valori anche il 9 giugno. Il ballottaggio ci sarà il 9 giugno dalle 7 alle 23 e si ripartirà da zero. Ci sono favoriti morali ma la parola passerà di nuovo ai cittadini. Grazie. Grazie. Grazie.